Sindaco, allora sembrerebbe che la Ryanair tagli tante rotte da Cagliari, sarebbe un danno grave per la città dal punto di vista turistico? Sarebbe un danno, adesso quello che sappiamo è che Ryanair ha confermato la volontà di rimanere a Cagliari, avevamo già interessato di questo la regione, preoccupati per alcuni annunci, sembrerebbe che sia rientrato il problema, la regione si sta attivando per non solo rafforzare la presenza di Ryanair ma potenziare le rotte e i traffici aerei da Cagliari verso altre mete d'Europa. L'assessore ieri ha dichiarato che il 30% delle rotte saranno tagliate, quindi c'è l'impossibilità a dare i 10 milioni che Ryanair richiede. So che c'è una difficoltà nell'erogare la quota di risorse a parte della regione, che è una difficoltà dal punto di vista amministrativo che speriamo venga superata, perché ovviamente il turismo in un'isola si fa con i collegamenti aerei e marittimi, è inutile pubblicizzare la Sardegna se poi la Sardegna è un'isola irraggiungibile, ovviamente questo è scontato e quindi se vogliamo diventare una città e una regione sempre più turistica abbiamo necessità e bisogno di trasporti aerei. Su questo stiamo ragionando con la Camera di Commercio, con la Soger, con il commissario, la professoressa Piras della Camera di Commercio e con la Soger proprio per rafforzare i collegamenti aerei. Sentito l'assessore regionale? Dopo sapere la sua pressione deve far sentire l'assessore. Beh, non dubbiamente, io interloquisco col Presidente della Regione su questi temi, oltre che con l'assessore regionale, quindi sono già a conoscenza, ma ne sono consapevoli delle difficoltà e delle problematiche nel caso in cui venissero tagliate tratte aeree e quindi collegamenti per la Sardegna, per Caglia. Quindi lei è fiducioso? Beh, io voglio ben sperare, nel senso che sarebbe un serissimo problema e non ce lo possiamo permettere in questo momento. Stiamo investendo tantissimo sul turismo, stiamo investendo tanto sulla pubblicità per la città di Cagliari, in giro per il mondo. Se non avessimo collegamenti aerei avremmo non solo un turista in meno, ma anche sprecato risorse. Grazie, Silvio. Grazie a voi. Assessore, Ragnaner potrebbe lasciare Cagliari, cioè tagliare almeno il 50% delle tratte, sarebbe un danno enorme per la città e per l'economia turistica? Sono d'accordo con lei, è un danno non misurabile, non quantificabile oggi, la città è cresciuta, dobbiamo dirlo, grazie anche alla presenza dei low cost che da anni hanno dato impulso e stimolo all'attività turistica e a far sì che Cagliari diventasse quello che è oggi. Confidiamo insomma che la Regione Sardegna possa fare sin in fondo il suo compito e ci possa garantire anche per l'estate del 2016, almeno le tratte del 2015. Intanto voi potete far sentire la vostra voce, questa è la Regione. Ma noi stiamo già dialogando da tempo ovviamente, anche il Sindaco è impegnato per mettere dalla sua tutto quello che l'amministrazione comunale può mettere in campo, assolutamente c'è la disponibilità piena, è evidente che serve una regia regionale e aspettiamo di sapere come ci possiamo muovere. Il danno è grave, sarebbe come tornare indietro a meno di 10 anni, perché i flussi che avrebbero meno e sono importanti per la città. Non c'è dubbio, questo è comunque di stimolo, dobbiamo lavorare perché Ryanair rimanga, perché arrivino anche altri vettori, quindi lavorare anche su nuove tratte, su nuove destinazioni, cioè dobbiamo tutti insieme lavorare perché il 2016 mantenga almeno in un numero di collegamenti che sono presenti con Ryanair o con altri vettori. Grazie Assessore. Come ci sono? Allora, Ryanair sembra che voglia tagliare delle tratte da Cagliari, la Camera del Commercio è interessata, perché mi sa che sia proprietaria in parte della L'Oposta di Cagliari. Sì, la Camera è un po' più del 94% dell'elquo attenzionale dell'elquo attenzionale dell'elquo attenzionale dell'elquo attenzionale dell'elquo attenzionale dell'elquo attenzionale. Allora, Ryanair ha preannunciato una diversa politica di interventi legata anche alle valutazioni economiche che porterà presumibilmente ad una riduzione dei voli, non è vero che Ryanair andrà via da Cagliari, abbiamo un dialogo aperto, molto costruttivo, con un recupero, io ritengo forte anche di quella che sembrava la posizione iniziale di Ryanair, abbiamo aperto anche nei confronti di altri vettori low cost, Cagliari non deve pensare di lavorare solo con Ryanair, mi permetto di essere ottimista, ritengo che Cagliari possa aspettarsi una stagione buona come gli altri. Ma la Camera del Commercio è un dialogo con la Regione? Avete dei contatti? La Camera del Commercio è un dialogo con la Regione, ci mancherebbe, certo sì. Quindi avete dei contatti, quindi c'è la speranza che arrivino altre compagnie con altri voli, questo mi sta dicendo. Noi stiamo, noi l'aeroporto sta lavorando in tal senso. In tal senso è la Camera, naturalmente, per quella che è la parte di sua competenza, sta lavorando invece nella promozione della destinazione Cagliari, in modo tale da poter avere dei flussi turistici importanti a Cagliari anche con altri vettori. Grazie per il saluto. Ryanair probabilmente taglia il 50% o al meglio il 30% delle trattate da Cagliari, sarebbe un danno per tutto il commercio a Cagliari in generale, soprattutto per i secoli turistici? Assolutamente sì, la risposta è scontata. Bisogna vedere qual è il margine operativo per poter rimediare a un problema grande come questo. Non so quali spazi ci possano essere, perché o da quanto sono le nostre notizie, se gli aiuti della regione passano su attraverso le retti restrittive della comunità europea, quindi un bando, ci rendiamo conto che siamo in una situazione assolutamente critica. Voi come sindacato potete sentire la vostra voce? Ma certissimo, non solo come associazione, ma anche come membri della Camera di Commercio, quindi come referenti dell'aeroporto, quindi tutto quello che potrà essere nelle nostre operatività sarà messo in essere. Ma se lo scoglio è la gara pubblica, come si potrebbe girare il problema? Lì bisogna in ogni caso capire bene e allacciare un dialogo costruttivo con Ryanair e vedere un attimino quali sono i margini operativi, perché se ho detto così da di fuori, può essere tutto quanto, bisogna dialogare con l'interessante. Siccome la stagione la stanno programmando in questo periodo, è adesso che? Ci rendiamo conto, ci rendiamo conto assolutamente, è da aprire subito un dialogo costruttivo con Ryanair. Grazie, grazie. Grazie.